No, volevo fare un grande applauso al successore di Max Allegri perché è giusto che ci stanno certi juventini che vogliono italiano sulla panchina della Juve per il prossimo anno No, ma quell'italiano non è male pure Dionisi Allora all'ottantanovesimo 88esimo, 4 a 0 Sampdoria 0 tiri Fiorentina il primo tiro nello specchio della porta della Fiorentina è stato all'ottantanovesimo con Saponara e ha segnato la Fiorentina su calcio di rigore un allenatore che si sta giocando l'Europa con una squadra che non arriva in Europa a quei livelli prendiamo a Vincenzino Italia quello si che sa giocare a calcio ma se ti giochi l'Europa devi vincere e non mi fai neanche un tiro a porta amico mio e questo è calcio lo sport è tutto un'altra cosa per questi tifosi è tutto un'altra cosa statemi a sentire a me cricket, golf, ping pong questi sono gli sport che vi competono Vincenzino Italiano grande allenatore grande applauso a te Vincenzino Italiano ha buscato con la serenità ha pigliato 4 scoppolo 1 in casa con l'Udinese 4 no 3 4 scoppolo 1 in casa con l'Udinese poi poi non mi ricordo ha pigliato 4 freselle 4 bistecche alla Fiorentina dalla Sampetoria che non ha più nulla da chiedere al campionato hai fatto un tiro in porta su calcio di rigore hai fatto un tiro in porta su calcio di rigore facciamo un applauso a Vincenzino Italiano prossimo allenatore è lui è Vincenzo Italiano ragazzi un applauso inghiniamoci tutti a Vincenzino Italiano un applauso ciao Vincenzi salutimi 4 a Bistec ciao ciao un bacio